Musica Ovviamente le tecnologie digitali stanno ridisegnando molti dei confini della nostra vita dalla socialità al modo in cui ci intratteniamo e anche al modo in cui lavoriamo e come troviamo lavoro e cosa è il nostro lavoro Musica Penso che la grande sfida della quarta rivoluzione industriale sia una sfida della conoscenza che consenta di liberare l'uomo dai lavori più pesanti e dedicare risorse all'innovazione, alla crescita, alla crescita culturale, alla crescita anche materiale Musica Dobbiamo sempre stare attenti a che cosa ci succede intorno perché quello che ci succede intorno prima o poi succederà anche al lavoro che stiamo svolgendo in quel momento le nostre conoscenze e sulle nostre competenze Musica 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 It would be equally inconceivable that we have people working in the digital economy without the computer, without the world wide web and without all the connected devices that we have today Musica Musica Dobbiamo trovare nuovi campi di lavoro e nuove forme di distribuzione della ricchezza e cioè dobbiamo ricontrattare il nostro modo di stare insieme, il nostro modo di produrre, il nostro modo di distribuire il valore Musica 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 Grazie a tutti